Musica 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 Cameriere E non spingire, per paura Già stiamo all'impiede come vuole Dio Bisogna armarsi di santa pazienza, come facciamo noi È l'unico armamento che avevo Comandi Una granita di surrogato di caffè Con surrogato di panna Di panna? E' un'esiste Ha specialmente Hai un'esiste Ja, comisch Wie die hier mit den Händen reden Posso offrire? Sto bevendo Ah E la famiglia come va? Né qua, né là Né qua, né là Minchia, che lusso, vagiota mio Americano Was hastu gesagt? Eh? Ammonin, imbicillo Ruf den Arm an Hier dort Los, freit euch! A partire da questo momento E in vigori copri poco Secondo le lecce militari Di guerra Aftur, Aftur Die deutsche Kommandatur Auf dem Platz von Pallomia Befelle, dass von diesem Augenblick Nur die Kriegsmilitären Gesenze gelten No, di qua no Oh, no, di qua no Oh, no, di qua no E' un bustecino sicuro Ora conoscerai la famosissima ospitalità siciliana Fuggire da un campo di prigionia con l'aiuto di taluni italiani indegni di questo nome traditore Verrà compensato con l'Iremille